La casa coniugale spesso e volentieri è il pomo della discordia, delle separazioni e dei divorzi e anche delle procedure familiari. La casa coniugale viene assegnata in godimento al genitore presso cui i figli continuano a vivere e questo è inevitabile in tutte le procedure, sia che siano minorenni o che siano maggiorenni. Il titolo di proprietà è irrilevante rispetto all'assegnazione in godimento della casa, per cui il padre potrebbe essere proprietario esclusivo dell'immobile, ma la casa può essere assegnata in godimento alla madre in virtù del fatto che la madre è la genitrice collocataria dei figli o i figli maggiorenni continuano a convivere con la madre stessa, per cui è un provvedimento a favore dei figli più che a favore dell'altro coniuge. Questo è un problema serio perché mi rendo conto che il diritto di proprietà è un diritto costituzionalmente garantito, ma bisogna fare un bilanciamento tra il diritto di proprietà e il diritto dei figli ed è normale che prevaga il secondo. Attenzione anche ai comodati gratuiti, se un genitore anziano dovesse in qualche modo mettere a disposizione un appartamento al figlio a titolo di comodato gratuito, attenzione lo fa proprio rischio e pericolo perché in caso di separazione o divorzio o di famiglia di fatto che si separa, nella quale però ci sono figli, questa casa potrebbe essere assegnata in condimento all'altro coniuge, al coniuge verso cui vivono i figli e questo è stata un'altra ragione di grossi contrasti, di grossi scontri giurisprudenziali, di prese di posizione perché è chiaro che se magari quel piccolo appartamento può rappresentare forse una delle poche fonti di reddito di una famiglia, è chiaro che quando viene assegnata ad un'altra persona che non è il figlio, questo può creare problemi non solo economici ma anche morali piuttosto rilevanti, ma questa è la legge, questa è la legge. Questo avviene poi anche nelle coppie di fatto, attenzione, la questione dell'assegnazione in condimento della casa non riguarda soltanto le persone legate al matrimonio, oggi riguarda anche le coppie di fatto con figli, per cui anche se non si è sposati, quando si arriva in tribunale il giudice deve comunque emettere un provvedimento a tutela dei figli che riguarda anche la casa, quindi non soltanto gli sposati rischiano di perdere la casa coniugale, la disponibilità della casa coniugale, perché qua non si parla di asferimento di proprietà, ma anche le persone che stanno insieme ma non sono sposate. Ovviamente questi provvedimenti sono revocabili, nel caso in cui i figli dovessero trovare una propria dimensione economica, un proprio lavoro con un contratto a tempo indeterminato, o dovessero per esempio lasciare la casa coniugale o familiare e riparare altrove. In tal caso non ha alcuna ragione di esistere un'assegnazione in godimento della casa all'altro genitore, salvo che non ne sia esclusivo proprietario. A quel punto la casa ritorna al legittimo proprietario e se in proprietà a quel punto la ex coppia può decidere di mettere in vendita l'immobile o si può parlare di un riscatto della quota da parte l'uno o dell'altro. Insomma, indubbiamente questa è un'altra questione che è destinata a far discutere ancora, ci sono disegni di legge che vorrebbero addirittura che i figli possano rimanere all'interno della casa e entrambi i genitori poi dovrebbero spostarsi secondo periodi ben definiti. Non so come andrà a finire. Ad oggi, chi lascia la casa coniugale, anche se ne è proprietario esclusivo, può portare dalla casa soltanto i propri effetti personali, i propri oggetti, strumenti di precisione, il computer, i propri vestiti, anche qualche quadro d'autore, perché comunque un quadro d'autore non rappresenta la comodità di una casa, quindi la possibilità di godere delle comodità di una casa. È un valore, ma per tutto il resto, per esempio, chi se ne va non può portare via la camera da letto, la sala da pranzo, deve lasciare tutto così com'è. E quindi mi rendo conto che colui il quale viene in qualche modo, tra virgolette, invitato a andare via, espulso da un contesto familiare e anche dalla propria casa, si tratta di un momento particolarmente complesso. Attenzione, l'assegnazione in condimento della casa comunque rappresenta un contributo economico, per cui il giudice in tema di quantificazione dell'assegno di mantenimento, sia per il coniuge più debole, se ne ha il diritto o per i figli, il giudice deve tenere conto del valore economico di questa assegnazione, anche per impedire che ci possano essere dei provvedimenti particolarmente pesanti o addirittura punitivi nei confronti di uno dei due coniugi. Tenete anche presente che chi se ne va deve comunque reperire un altro immobile o lo deve acquistare, quindi deve accendere un mutuo o lo deve affittare e pagare un cambio di locazione, quindi il giudice dovrà tenere conto anche di tutto questo.